Ora in onda un mondo di auguri. In diretta su Radio Sorriso TV da lunedì al venerdì. Il tuo programma di dediche e auguri con la più bella musica di Radio Sorriso. Tutta da vedere. Richiedi un video e fai la tua dedica inviando un messaggio al 393-7366-888 o chiamaci in diretta allo 0423-7366-74. Adesso basta, mi sono rotto, me ne vado via. Nella valigia ho messo tutto, sia quel che sia. Stavolta non decido io. Ma dove vado lo sa Dio. E' partito, l'ho già perso il treno alla stazione. Cancellato l'ultimo volo, ho perso un'occasione. L'autista oggi non mi aspetta. Io partirò anche a piedi o in bicicletta. Ehi, oh, basta avere una valigia. Oh, oh. Con i sogni miei, la libertà. Oh, yeah, oh. E così non è più grigia questa vita mia. Via, eh oh, me ne vado via di qua, via, eh oh, me ne vado via, di qua. Vuoi vedere che si trova una soluzione? Basta poco per cambiare la destinazione. C'è sempre un posto dove andare ed un ombrello quando piove. Lascio fuori dalla valigia quello che non serve, tengo solo i miei ricordi, il resto poi si perde. C'è un mondo fuori che ci aspetta, per una volta in pace e senza fretta. Ehi, eh oh, basta avere una valigia, oh, con i sogni miei la libertà. Oh, ehi, eh oh, e così non è più grigia questa vita mia. Via, eh oh, me ne vado via di qua, via. Ehi, eh oh, me ne vado via di qua, me ne vado via di qua. Ehi, eh oh, basta avere una valigia, oh, con i sogni miei la libertà. Oh, ehi, eh oh, rossa, verde, gialla o grigia, questa vita mia. Ehi, eh oh, me ne vado via di qua, via. Ehi, eh oh, me ne vado via di qua, me ne vado via, di qua. Me ne vado via, vado via, me ne vado via di qua. E con la valigia apriamo questa puntata di mercoledì 5 di febbraio di Un Mondo di Auguri. Buona giornata, buon pranzo, grazie per essere in tanti anche oggi che ci state guardando dal vostro televisore sul canale 74 del Digitale Terrestre. Questa è Sorriso TV e per 60 minuti avete la possibilità di chiamarci e di entrare in diretta con noi. Sentiamo subito chi c'è, buongiorno. Buongiorno Paola, buongiorno. Buongiorno, chi parla? Buongiorno Pietro da Padova. Caro Pietro da Padova, come stai oggi? Tutto a posto? Beh, insomma, abbastanza bene, insomma, non posso lamentarmi. È una bella giornata anche a Padova? Sì, è un po' di vento, ma comunque è una bella giornata. Comunque io sono dentro in casa perché sto guardando la televisione. Certo, ci stai guardando. Caro Pietro, vuoi vedere un'orchestra particolare? Sì, vorrei sapere vedere il sorriso di uno zingaro, di Frigerio. Il sorriso di uno zingaro. Stefano Frigerio, l'abbiamo già trovato e quindi arriva tra poco, caro Pietro. Grazie infinite. Caro Pietro, ti abbraccio, buon pranzo. Grazie a te tanto, arrivederci. Arrivederci, signor Pietro. Eravamo a Padova 0423 736674. È questo il numero, se ci volete chiamare in diretta. I primi che chiamano sono anche quelli più fortunati perché la scaletta dei video che vedremo da qui alle 13 la fate voi in questo momento. Quindi sentiamo subito chi c'è. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno Paola. Buongiorno. Sono mia Anna Maria di Viedi, San Trovato di Pregasione. Eccoci qua, buongiorno Anna Maria, buon mercoledì. Dimmi. E ho fai gli auguri di un compleanno di un cugino. Come si chiama il cugino allora? Vanzella Giuseppe. Vanzella Giuseppe. È la mia cugina Giuseppina. E dove abita tuo cugino? Pregasione. Ah, è di preganziola. Perfetto. Quanti anni compie Giuseppe? Eh, meglio come mi? 77. Ah, 77. 77, bene. 77. 77. 77. Allora, magari, beh, se ci sta guardando, caro Giuseppe di Preganziola, buon compleanno. Eh, appunto. Dimmi, dedichiamo una canzone a Giuseppe? Sì. Sì. Quale? Eh, mettiamo, se sei pronta che è rosa e rosa, io stesso. Rosse e rosa, rosa e 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 di Marco il clan. Sì. Bella. Va bene. Ciao Giuseppina. Sì. Ciao, sono mia Anna Maria. Ciao. Anna Maria, sì. Ciao Anna Maria. Arriva tra poco Anna Maria. Sì. Grazie. Ciao. Allora, noi preferiamo sentire le vostre voci. Adesso chi c'è al telefono? Buongiorno. 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 Ciao Paola, sono Ornella di Opeano, Verona. Opeano, in provincia di Verona. Fate il cardavale a Opeano? Certo, sì, 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 lo facciamo, è anche bello. Eh, infatti, perché ne ho sentito parlare. Quando comincia? Quando comincia? Eh, adesso dirti la data non lo so, perché non so la data oggi, ma comunque dovrà essere imminente, penso. Esatto, esatto. Certo. Sì, sì, sì. Niente, volevo fare una dedica speciale a una persona speciale, che sarebbe mia cugina a Stefania, che oggi è il suo compleanno e purtroppo è passato un brutto anno e niente, voglio fare una dedica, se puoi, una canzone di suo cugino che è Sergio Cremonese. Eh certo, Sergio Cremonese. Hai una preferenza? Sì, lei avrebbe Perfect, ma non so se c'è il video. Eh, infatti, adesso stiamo cercando con la regia. O se no, una parola. Oppure una parola di Sergio Cremonese. Eccola là, l'abbiamo trovata. Ti seguo sempre, ti seguo sempre. Allora, tanti auguri a Stefania, anche da parte dello staff di Sorriso TV e ti mando un bacio, tra poco arriva Cremonese, va bene? Grazie Paola, buongiorno. Arrivederci, grazie a te, ciao, arrivederci. 0423 736674, il numero per la diretta, approfittatene, abbiamo un'oretta per stare insieme e mandare le vostre telefonate, questo è un mondo di auguri e naturalmente di saluti anche. È caduta la linea, 0423 736674, vedo anche dei whatsapp. Allora, aspettando le telefonate, io regia, se vuoi, do una lettura dei whatsapp e faccio dei saluti. Emanuela, sono Lorenzo, allora salutiamo anche Lorenzo di Vicenza, salutiamo Emanuela. Poi, chi ci manda il buongiorno, firmate sempre i vostri messaggi quando ci scrivete. Poi salutiamo Monica da Padova, che ci chiede una canzone e manda un saluto a tutte le signore che, come me, stanno stirando. Dice Monica, saluto anche la Monica, dopo cercheremo anche il brano. Allora, vi ripeto, 0423 736674, se volete entrare in diretta con noi. Stiamo liberando il centralino, così ci potete chiamare, e richiedere le canzoni, perché la scaletta, come vi ho detto, la facciamo insieme a voi. Direi di andare subito, quindi, con accontentare la prima richiesta che è arrivata, e cioè sorriso di uno zingaro, lui è Stefano Frigerio. Andiamo con il video e ci vediamo tra poco. Vai regia! Grazie a tutti. Gira e gira il mondo, gira, al sorriso degli zingari, resterà per sempre nel mio cuore. Tu, che forse come lui, stai cercando libertà, zingaro. A lui la puoi insegnare, anche tu, sei libero di andare, impara un po' volare, e farti trasportare in questo mondo fantastico. Zingaro, sei come una farfalla, che sopra un prato in fiore, dissevi l'amore, dando al cuore la felicità. Solo tu, hai mille fantasie, puoi andare, puoi venire, sai dare solo amore, senza chiedere mai. Vai, vai, zingaro, solo tu, zingaro. No, non puoi legare a te, la vita di quell'uomo, come me, lo zingaro puoi fare. Già, sei ricco se lo vuoi, d'amore e d'allegria, zingaro. Ti prego, non cambiare, anche tu, sei libero di andare, impara un po' volare, e farti trasportare in questo mondo fantastico. Zingaro, sei come una farfalla, che sopra un prato in fiore, dissevi l'amore, dando al cuore la felicità. Solo tu, hai mille fantasie, puoi andare, puoi venire, sai dare solo amore, senza chiedere mai. Voi, zingaro, solo tu, zingaro. 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 Ora le più passate di Radio Sorriso le puoi vedere ed ascoltare anche su Radio Sorriso TV tutte le domeniche dalle 18 alle 19 con la simpatia di Tiziana e Massimiliano Le più passate di Radio Sorriso La classifica delle 12 canzoni più suonate e richieste dagli ascoltatori durante la settimana Radio Sorriso TV, la televisione che vuoi tu Amici e amiche di Radio Sorriso TV, la vedete? È bellissima, è la nuova macchina del caffè di Radio Sorriso Non l'avete ancora ordinata? Allora non perdete tempo perché l'offerta è meravigliosa Direttamente a casa vostra la macchinetta del caffè di Radio Sorriso più 231 capsule degustazione Il tutto a 57 euro solamente, spese di spedizione comprese Chiamate in orario ufficio allo 0423 7367 Macchinetta del caffè più 231 capsule a soli 57 euro spese di spedizione comprese Che aspettate? Quando il sole scende sera dentro me Una stella splendida in cielo e penso a te Ecco è giunto quel momento, torno a te, amore mio Tu mi manchi senza te, ragion non c'è Ro, 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 rosso, rosse, rosse, rosse Valgono più delle parole E ascolterà il mio cuore che sussurrerà senza di te Più ragione non c'è Sì, 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 sono rosse e rose Crescono in me, sei tu il mio sole E parlerai del modo che mi accadezzavi amore e mi scrincevi a te Ci volava il suo bel fiore su di me E la luna sorrideva come se Quel sorriso, oh quel sorriso, quante volte mi sfiorò Con i fiori tra le mani mi baciò Ro, 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 rosso, rosse, rosse Valgono più delle parole E ascolterà il mio cuore che Sussurrerà senza di te Più ragione non c'è Sì, 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 sono rosse e rose Crescono in me, sei tu il mio sole E parlerai del modo che Mi accarezzavi amore e mi stringevi a te Sì, 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 sono rosse e rose Crescono in me, sei tu il mio sole E parlerai del modo che Mi accarezzavi amore e mi stringevi a te Una delle canzoni più richieste in assoluto di Marco Ilclana Ciao Marco, rosse e rose È sempre un piacere di vedere anche questo video E a sentire la voce di Marco Ilclana Allora, sono le 12.21 Questo è un mondo di auguri Un'oretta per scambiare quattro chiacchiere In diretta, telefonica, con Sorriso TV Possiamo così riassumere la trasmissione con questa frase Sentiamo adesso chi ci raggiunge telefonicamente Buongiorno, sei in diretta Ciao Paola, sono Luciano da Volpago E Luciano da Volpago del Montello Un nostro amico, come va oggi? Che bellissima giornata Perfetto, una giornata per andare tra i boschi A funghi A funghi Caro Luciano, abbiamo già pranzato? Eh? Abbiamo già pranzato? Oh, sto mangiando adesso E cosa mangi di buono, Luciano? Oh, un po' semplice, una menestina, un po' di lesso Un po' di creme, due o tre biscottini, un'arancia Ma senti, il lesso cosa fai? Il pezzettino di manzo, la gallina, la lingua? La gallina con manzo Solo carne di manzo? Sì, sì Paola, si può sentire la canzone, dunque, canto straniero Canto straniero Allora, di Linda Biscaro, Ilenia e i festival Va bene? Esattamente Ok, vedo che la regia è molto smart E l'ha già trovata, la canzone Arriva, abbi pazienza, entro l'una D'accordo? Sei splendida Grazie, evviva te Ti ringrazio Ti ringrazio Grazie, buon pranzo, buona continuazione Soltanto a te Paola Arrivederci 0423736674 E' anche bello sapere cosa mangiate E se siete bravi a cucinare Perché visto che con la tv arriviamo, insomma, in tanti posti E anche conoscere la cucina locale Non è male, io direi Sentiamo questa signora o questo signore Chi parla? Sì, sono io, Paola Come stai? Cosa fai? Dove vai di bello? Io chi? Ah, sono Gianni Eh, porta pazienza No, stai attenta, stai attenta, Paola L'altra volta io ti avevo chiesto Pietro ritorna Sì Eh, però l'hai messa su Alla fine e quindi non l'hai neanche messa su Perché l'hai tagliato tutto, no? Non ricordo Io, io sì Eh Perché purtroppo la suona Camillo Del Vaux Però la suona in abbinamento con un'altra canzone E non ho mai capito da chi Eh Ho capito Allora, lui ha finito, diciamo, la prima canzone Dove attaccare Pietro ritorna E il programma si è concluso Ah, ho capito Che facciamo? Chiedimi qualcos'altro Quello è il video che abbiamo Sì Paolina, guarda Sì Mi piacerebbe sentire adesso, mi è venuto in mente Il Walter dell'Uginolo Eh, suonato da Walter Losi Che l'ho sentito ancora, per dirvi Vediamo, vediamo, vediamo Vediamo Vedo che sta cercando Sì Allora, sta cercando la regia L'Uginolo si chiama Il Walter dell'Uginolo Vedo Sì, sì Vedo che è stato recuperato dalla regia Io sto guardando Nel mio monitor Dove vedo quello che fa la regia E la regia ha trovato il video Quindi passa entro le 13 Eh, Paolina Ma stanno solamente le sulle 13 Se no Se no me la tronchi anche qui Entro le 13 Dai Cerchiamo di fare il più possibile Di accontentarvi tutti Va bene? Va benissimo Lo so che sei comprensivo Ti saluto Buon pranzo Lo sai che sei sempre splendida Grazie, grazie La mia autostima La mia autostima si impenna Dai Ok Grazie Ciao, ciao Arrivederci Grazie, grazie Sempre molto gentili Abbiamo dei telespettatori Veramente molto, molto gentili Sentiamo il prossimo Buongiorno Sei in diretta Buongiorno Buongiorno Sono Andrea Da Cittadella Da Cittadella La città murata Che è vicino dove siamo noi Noi siamo a Castelfranco Quindi no Condividiamo un po' la morfologia della città Dimmi tesoro Come va oggi? Vorrei fare una dedica A Davide, Daniela e Luca Davide, Daniela e Luca Quindi abbiamo fatto la dedica Li hai salutati E io ti auguro una buona giornata Ascolta Vorrei sentire un pezzo Un brano Va bene Vediamo che brano è Dimmi pure Rossella Ferrari Sì Quale canzone? Fammi un pieno d'amore Ho capito Rossella Ferrari Casanova Ok Allora mi scrivo un po' tutto La cerchiamo E naturalmente Se abbiamo il video di questa canzone Te la facciamo vedere Ti ringrazio Saluti Arrivederci Grazie mille L'Ostella Grazie mille Volevo Sì Volevo dirti che sei fantastica Sei tanto gentile Come ti dicono tutti Ma te lo dico anch'io Sei fantastica Ma senti Sei bella Da 36 Ah sì infatti Potrei essere la tua figliola Potrei essere Certo certo Ma senti hai figlioli Hai figlioli Io Una ragazza Sì sì Ah Una ragazza Che abita lontano Abitava a Napoli Adesso è qua con me Perché sono rimasta vedova Ah è tornata su da Napoli È venuta a abitare da te Da Napoli Sì sì E senti Siamo insieme Ah perfetto E hai nipoti anche? No No Non ho nipoti Ah quindi tua figlia Non è sposata È sposata Ma non ha figli Ah ma non ha figli Va bene insomma È lo stesso È uguale Va bene L'importante è che andiate d'accordo Eh sì sì Quello senz'altro Guai se no Come si chiama la tua figliola? La mia figliola? Sì Mara 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 Saluto la Mara Sono un po' aggittata sai Devi scusare Sono un po' aggittata No tranquillo È come parlassi con la tua figliola Salutami tanto la Mara allora Va bene Sì grazie Perfetto Volevo sentire una canzone Dimmi dimmi Il cielo una coperta ricamata Ah che bella Allora vediamo Cantata da chi? Da Marco Zetta? Eh Bagutti mi pare Canta no? Anche L'orchestra Bagutti Eh Dall'orchestra Bagutti Perché io ce l'ho cantata Da Marco Zetta Oppure da Paolo Bertoli Tu la volevi dall'orchestra Bagutti? Beh non posso È bella lo stesso Eh Di Bagutti non ce l'ho il video C'ho il video solo di questi qua Va bene Ho uno o l'altro Va bene dai Va bene va bene Ciao carissima Buona giornata Ti ringrazio Buon pranzo Buon tutto Ti saluto Mi fate tanta tanta compagnia Eh lo so Lo so Grazie cara Un bacione Ciao A presto Grazie mille È bella che simpatica questa signora Andiamo con il brano Sergio Cremonese Una richiesta Si intitola Una parola Vai regia Stavolta lo so Perché con te mi sento fragile E quando sei qui con me La vita cambia regole Mi manchi già dopo un minuto Ed il vuoto è incolmabile Perché il tuo sguardo E nei miei occhi ancora Non serve dire una parola Nell'immensità La luna splende sopra noi D'una mia metà La luce può farti ogni mio mattino Nell'immensità Tra banda gente vogliote E tu chiamalo pure amore Se vuoi E il resto viene da sé Mi perdo fissando una foto di te Lì sul monitor E giro per casa Aspettando che squirvi il telefono Qui tutto mi parla di te Sei il mio specchio Il mio angelo Per tutta la vita Ti voglio ancora Ti basta dire Una parola Nell'immensità La luna splende sopra noi Tu la mia metà La luce nuova Di ogni mio mattino Nell'immensità Tra tanta gente voglio te E tu chiamalo pure amore Se vuoi Il resto viene da sé Un futuro Una famiglia Un altare Sarò l'antica Ma io questo voglio dare a te A te che sei diversa La nostra luce Brilla il cielo Inversa Nell'immensità La luna splende sopra noi Tu la mia metà La luce nuova Di ogni mio mattino Nell'immensità Tra tanta gente voglio te E tu chiamalo pure amore Se vuoi Io sono qui Per te Ogni mese Sirene Blu ti stupisce sempre Con la certezza del risparmio Vieni a trovarci anche a febbraio E scopri le nuove offerte valide Fino al primo marzo Su tanti prodotti Per la casa e la persona Sole fustone 128 lavaggi 8 euro e 90 Coccolino ammorbidente Concentrato 750 ml 99 centesimi Sirene Blu Tu di più Amici telespettatori Se non avete ancora La macchinetta del caffè Di Radio Sorriso Eccola qua A casa vostra È arrivato il momento Di farvi un bellissimo regalo Potrete avere direttamente A casa vostra La nostra macchinetta Macchinetta del caffè di Radio Sorriso Che vedete qui a fianco a me Compresa un kit degustazione Di ben 231 capsule Avete capito bene? 231 capsule Tutto a 57 euro Spese di spedizione Comprese Non pagate un euro in più Mi raccomando Macchinetta del caffè di Radio Sorriso Più 231 capsule Che comprendono diverse tipologie di caffè Abbiamo il decaffeinato Il ginseng L'orzo Abbiamo le tisane Abbiamo il tè 231 capsule Più questa bellissima macchinetta del caffè di Radio Sorriso Direttamente a casa vostra A 57 euro Un vero regalo E allora non perdete tempo Chiamate in orario ufficio Il nostro centralino Fate questo numero Lo 0 4 2 3 7 3 6 7 Ve lo ripeto 0 4 2 3 7 3 6 7 In orario ufficio Fatevi un regalo meraviglioso La macchinetta del caffè di Radio Sorriso Più 231 capsule degustazione A Treviso Fermati All'Albera di Zeus Carne alla griglia Piatti di cucina genuina Le inconfondibili pizze E in più Siamo specializzati in cibi senza glutine Certificati dall'AIC Associazione Italiana Celiachia Sale ideali per feste e ricevimenti Ristorante pizzeria L'Albera di Zeus Preganziol Via Terraglio 249 Alberadizeus.com Le grandi emozioni Non finiscono mai Radio Sorriso Ha preparato per te Un cofanetto di 3 CD Con le più belle poesie e canzoni Di Radio Sorriso Uno speciale cofanetto con 3 CD Le poesie di Radio Sorriso Volume 1 e 2 E il CD I capolavori di Papà Albano Tante canzoni e poesie Per riflettere sulla bellezza della vita A soli 25 euro Comprese le spese di spedizione Ordina il tuo speciale cofanetto Chiama allo 0423 7367 Oppure prenotalo su sorriso.it Chiara così La notte non è stata mai E triste sì Perché te ne vai Non dormirai Questa notte abbracciato con me Perché so che ormai Tu ti sei Innamorato di lei Lento sarà Il mio disco Che ti legherà Un po' più a lei E meno a me E scorrerai Il mio nome Ma non scorrerai Quest'estate che Finirà Senza di noi Intonerò Intonerò Nell'immessità Ascolta il mio canto straniero Non ti lascerò Non ti lascerò Da solo Il mio canto straniero Siamo grandi Siamo grandi Soffrire ci fa Stare a terra E volare Nell'immessità Diventa il mio canto straniero Non c'è umanità Nel cuore di un canto Ci dà E il mio canto straniero Sei tu Come un dolce Vereno di fu Chiara così La notte Non è stata mai E' triste Sì Perché te ne fai Ma a posto no Questa testa Non la metterò Con o senza te So che io E comincerò Proprio adesso Che credo Nell'immessità Ascolta il mio canto straniero Non ti lascerò Da solo Il mio canto straniero Siamo grandi Soffrire ci fa Stare a terra E volare Nell'immessità Diventa il mio canto straniero Non c'è umanità Nel cuore di un canto Ci dà E il mio canto straniero Sei tu Come un dolce Nell'immessità Nell'immessità Ascolta il mio canto straniero Non ti lascerò Non ti lascerò Non ti lascerò Da solo il mio canto straniero Siamo grandi Siamo grandi Eh che entusiasmo Eh che entusiasmo Che bella Questa canzone Canto straniero Sono le 12.40 Siamo in diretta State vedendo Un mondo di auguri Loretta Dove parlate in diretta Con sorriso TV Sino alle 13 Abbiamo tante belle richieste Che sono arrivate Io direi regia Sono arrivati anche Tanti messaggi Se li vuoi far scorrere Sul teleschermo Io intanto Li leggo velocemente Allora partiamo con i saluti Salutiamo Renato e Rossana Da Chioggia Grazie Buona giornata Che fanno gli auguri Al campione Va bene Ronaldo Della Juventus Che compie oggi 35 anni Veramente Non lo sapevo Grazie ragazzi Va bene Facciamo gli auguri Per chi ti fa calcio A Ronaldo CR7 Della Juventus Poi Salutiamo Chi ci fa le richieste Firmate i messaggi Salutiamo tutti gli amici Da parte di Elvira e Roberto Di Vigo d'Arzere Ok Che oggi stanno pranzando Quindi ci hanno mandato un messaggio Ciao Elvira e ciao Roberto Buona giornata Salutiamo anche Doriana e Lucio Che ci hanno messaggiato Grazie Doriana E grazie anche Lucio Non sappiamo da dove scrivete Però sappiamo Che ci state guardando Quindi abbiamo ancora posti Per le vostre richieste Dovete telefonarci E quindi il centralino È libero Fatelo Adesso Adesso Allo 0423 736674 È il numero Per parlare con noi Di Sorriso TV Chiamare E andare In diretta Io velocemente Vi voglio dire Che si avvicina San Valentino La festa degli innamorati Quindi se non sapete Che regalo fare A vostra Moglie Alla vostra compagna O a chi volete voi Pensate Che c'è il cofanetto Di Radio Sorriso Che comprende Tre cd I capolavori Di papà Albano Se magari questa persona Ama Albano Ci sono le canzoni Di Albano E le poesie Di Radio Sorriso Volume 1 E volume 2 Quindi sono tre cd Meravigliosi Che potete regalare Come pensiero Per San Valentino Visto che manca poco E vi costa solo Questo cofanetto Con questi tre cd Vi costa solo 25 euro Non pagate niente di più Niente di meno Ve lo spediscono a casa Quindi sarebbe momento Di ordinarlo adesso Per averlo in tempo Per regalarlo A qualcuna che volete Per San Valentino O a qualcuno Che volete Per San Valentino È un bel pensiero Secondo me Vi costa anche poco Quindi chiamatelo 0423 7367 È il numero Del centralino Per chiamare Le nostre signorine E ordinare Il cofanetto Di Radio Sorriso A 25 euro 0423 7367 È il centralone Va bene? Pensateci Potrebbe essere Una idea Molto carina Secondo me No? Ritorniamo a noi Allora Per la diretta Invece Il numero da fare È lo 0423 0523 736674 Ma andiamo Con la prossima richiesta Perché abbiamo Un sacco di richieste Walter Losi Il valzer Dell'usignolo Vai regia Ma andiamo La prossima richiesta La prossima richiesta La prossima richiesta Grazie a tutti 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 Grazie a tutti